Mi chiamo Alessandra, ho il bar Mr. Magu Pizzeria Samone e oggi in occasione del Giro d'Italia abbiamo preparato panini, patettine, caffè per tutti, per rifocillare tutte le persone che sono venute ad assistere al Giro. Com'è questa attesa? È bellissima, l'atmosfera è una cosa che mi piace tanto perché il ciclismo, io giocavo a bocce però adesso che non posso più giocare a bocce per via delle gambe che non girano più. Chi è il suo favorito? Oramai è deciso, credo che vinca Froom che è troppo forte, non credo a un ribaltamento della classifica. E' stato molto in scandali per doping, cosa ne pensi di questo? Ma devono ancora sempre decidere, anch'io lì per lì pensavo, ero contro, però adesso si è dimostrato, parla anche italiano tra l'altro Froom, a dispetto di tanti che l'italiano non lo sanno parlare, è anche simpatico, ho sentito i commenti e probabilmente quel fatto lì del Giro di Spagna che aveva assunto quella cosa lì per l'asma, decideranno. Viva Froom allora! Sì, non mi era simpatico ma purtroppo, intanto, italiani zero. Va bene, grazie mille! Prego!